Benvenuti nel mio pronostico shorts, ve lo dico così in sala e sto registrando con il tablet, infatti è molto traballante Andiamo a pronosticare le tre gare del sabato, poi faremo ovviamente quella domenica più quella probabilmente del lunedì Allora partiamo dalla prima che è Empoli-Venezia, io pronostico un 2 a 1 dell'Empoli con gol Quindi anche over 2,5 e pronostico doppietta di Mancuso e gol invece di Aramu per il Venezia Passiamo a Napoli-Juventus in cui pronostico un 2 a 1 per i napoletani con gol di Ozyman E per la Juventus, non lo so a dire il vero, potrebbe segnare di Morata come tanti altri Doppietta di Ozyman per il Napoli, Atalanta-Fiorentina invece pronostico un gol 3 a 1 per l'Atalanta Quindi anche over 3,5, io pronostico tanti gol per la Fiorentina sul marcatore Mentre invece per l'Atalanta no, gol per la Fiorentina del buon Vlaovic Quindi anche per l'Atalanta no, gol per la Fiorentina del buon Vlaovic